direi che è una vera e propria invasione mio caro invasione adesso ma questi ragazzi di colore qui in Italia insomma e l'amore per la patria i nostri concittadini oh grandissimo giocatore fatto bene a prenderlo ma non è di colore e l'invasione e l'amore per la patria sì ma caro mio il calcio è il calcio in Trentino dopo 20 anni di immigrazione gli stranieri sono 38.000 di questi 9.500 sono comunitari per vincere c'è bisogno di cacà eh un fondo a destra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti